Presidente dell'Ospedaletti, dopo partita contro la Voltrese, un primo tempo un po' interrogatorio, poi sono arrivati i due gol che hanno deciso questo incontro. Un Ospedaletti che non molla, in testa la classifica, gran bel duello con la Luanesi a sua volta. Sì, il duello continua, la Luanesi è la squadra che abbiamo già visto avere in questo momento la testa più pronta per tentare il riaggancio e continuare a inseguirci, questo ci dà lo stimolo di continuare a cercare di rimanere lì davanti, oggi partita ostica, primo tempo veramente interrogatorio, però la differenza la fanno alcuni spunti e poi giocando così possiamo portare avanti tante soddisfazioni. Una squadra all'Ospedaletti che sa soffrire, l'abbiamo già visto, si è visto anche oggi, una squadra che comunque al momento di calare il colpo risolutore non si fa mai trovare impreparata. Una squadra di ragazzi eccezionali, tutti quanti pronti a soffrire e ad aspettare il momento giusto. Quando arriva il momento giusto pronti a raccogliere quello che possono. Sono molto soddisfatto, ma i lavori del Ministero e del suo staff importantissimo che porta questa mentalità alla squadra. Continuiamo così, siamo pronti a continuare. Benissimo, ringraziamo il Presidente dell'Ospedaletti per Settimana Sport.